Ciao amici, siamo sempre più vicini al mio traguardo storico, il primo traguardo che mi ero posto sin da quando ho aperto questo canale, qual è raggiungere i 1000 iscritti. Siamo adesso a poco più di 940 iscritti e i 1000 oramai li vedo lì, sono davvero dietro l'angolo. Nel mese di luglio sono successe davvero tantissime cose, soprattutto offline. Alcune ve le ho già raccontate all'interno di alcuni video specifici, invece altre forme di investimento e di ritorni ve le racconto oggi in questo video. Quindi preparatevi e partiamo, in particolare poi restate fino in fondo perché il mondo delle cripto sembra che stia tornando, stia vedendo, insomma dopo lo vediamo. Prima di iniziare aiutatemi a far saltare per area il contatore del pulsante di mi piace, così da far arrivare questo video a più persone possibile e aiutarmi a far crescere, a far crescere altre persone nella consapevolezza degli investimenti. Come sapete questo tipo di video lo registro non per dirvi cosa è bene, cosa è giusto fare, cosa non è giusto fare, ma per avere un confronto attivo con voi nell'ambito degli investimenti. Per questo vi chiedo di farmi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di quelli che sono i miei investimenti oppure di altre cose che vorreste suggerirmi. Per chi è nuovo e non conosce ancora questo format, divido il video in quattro capitoli ormai. Inizialmente parlo degli investimenti progressi, quindi quelli che mi porto dietro da più tempo, successivamente parlo di che cosa ho investito questo mese e successivamente ancora dove voglio investire il prossimo mese, quindi ora da ora in poi. E come ultimo c'è un capitolo specifico solamente per l'ambito cripto. Ehi, scusa, scusa, ciao non voglio rubarti molto tempo, voglio solo dirti che questo video è offerto da me, da me stesso, da me medesimo, dal mio tempo. E insomma ti ringrazierai veramente tanto se tu potessi supportare questo progetto mettendo un bel pollicione in alto e iscrivendoti al mio canale. Sarebbe davvero di grande aiuto. Ciao, a presto. Oggi nella categoria degli investimenti progressi partiamo da alcuni investimenti abbastanza antichi e vediamo come stanno andando nel lungo termine. Poi vedremo anche quelli più classici come il peer-to-peer lending, come altre forme di investimento, come i piani di accumulo, insomma i classici che vediamo ogni mese. Sapete da quanto tempo sono su YouTube in maniera attiva? Allora, questo canale è aperto da marzo 2020, ma ho poi iniziato a popolarlo di contenuti da settembre. Ritengo però di aver prodotto i primi contenuti sufficientemente passabili, guardabili, verso novembre. Dunque, per quel che ne so io questo canale ha nove mesi di vita. È appena nato, è appena un bambino, è appena superato la gravidanza. In nove mesi siamo a più di 900 iscritti, quindi all'incirca 100 iscritti per mese. Chiaramente non è stata una crescita lineare. All'inizio praticamente nessuno, poi poco poco poco, poi c'è stato il momento delle cripto in cui tantissime persone si sono iscritte, a alcuni giorni anche 20-30 persone al giorno. Poi un momento più di blocco, verso giugno-luglio, e poi siamo arrivati ad ora a circa 950 persone iscritte a questo canale. Quello che ho capito nel corso di questi nove mesi, più i due mesi di apprendistato, è che YouTube non ti dà quasi mai grandi soddisfazioni nel breve termine. YouTube è una macchina diesel. All'inizio ci mette proprio tanto per carburare, ma ci sono validi motivi. L'inesperienza da vari punti di vista, per esempio come creare i contenuti, che contenuti creare, oppure come farsi trovare, come organizzare il lavoro di creazione del contenuto. Poi un altro punto fondamentale è che non ci sono video consigliati. Per esempio, metti che parti da zero e crei un video. All'interno del tuo video puoi consigliare altri tuoi video? No. L'utente che guarda il tuo video può guardare solo quello, ce n'è solamente uno. Invece dopo anni e anni che crei contenuti, ci sono molti più link, molti più flashback, molti più collegamenti intra video che puoi fare. Un altro punto fondamentale è che non ci sono trame. Basta di pensare, per esempio, a un contenuto come questo qua, i miei investimenti. Ormai siamo appunto al nono mese. Un utente può riguardare tutto quello che è successo, può trovare una playlist con tutti i miei investimenti, mese per mese, appunto da quando ho iniziato, e in base a questo puoi imparare tantissimo tutto quello che io ho fatto. Un altro punto fondamentale è come impostare i tag dei video. Voi sapete che ogni video ha un titolo, una descrizione e dei tag, che sostanzialmente servono a far trovare il video sulla base della ricerca dell'utente. All'inizio, ma io parlo per me anche ora, non è banale usare i tag. Quali sono i tag che ti portano più traffico? Quali sono i tag per cui c'è più ricerca, ma meno competizione? Insomma, è sempre tutto un test. Quindi all'inizio ne sai proprio pochissimo. Andando avanti puoi iniziare a capire, a cercare, a vedere come funziona. Il quinto punto è la mancanza completa di persone che vogliono partecipare alla tua community e che poi interagiscono attivamente. Cioè all'inizio non c'è nessuna, nessuno frega del tuo canale e di che cosa stai facendo. Quindi insomma c'è poco da fare. YouTube nel breve termine è una macchina un po' goffa, però quando inizia a prendere velocità, eh, diciamo che può spiccare anche il volo. È proprio per questo che esiste un concetto che si chiama effetto valanga e credo che sia abbastanza chiaro. Parte un sassolino che si porta dietro poca poca roba, smuove però un po' il terreno, allora qualcos'altro si attacca, stimola il terreno, inizia un po' a diventare più grande, si inizia a mangiare il terreno, inizia a spostarsi, insomma trascina tutto il terreno sempre più giù e a un certo punto parte la valanga. Quindi tutto quello che hai fatto all'inizio e che non aveva portato praticamente ad alcun risultato, in verità è stato potenziante per tutto quello che è avvenuto dopo. E alla fine poi questo concetto, se ci pensi, è molto vicino, è molto familiare con tutti gli investimenti di lungo termine. Per esempio in questo video che ti lascio parlo dell'interesse composto e perché conviene e bisogna investire da giovani. Stiamo parlando esattamente della stessa cosa. Tutto quello che all'inizio era piccolo, poco alla volta, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, contribuisce a un grosso disequilibrio, cioè contribuisce a creare una forbice molto molto importante tra come sarebbe e come sarà. Passiamo adesso a un esempio di tutto questo e iniziamo ora a vedere gli investimenti progressi. Iniziamo dal peer-to-peer lending. Il peer-to-peer lending definisce un prestito fra persone senza che vi sia la necessità di avere un intermediario, per esempio come una banca. Io attualmente ho attivi investimenti su due piattaforme di peer-to-peer lending. La prima è Bondora e la seconda è Rendimento Etico. Per quanto riguarda Bondora ho realizzato un guadagno di 9,58€ nel mese di luglio, ossia 0,82€ in più rispetto a giugno. Come dico sempre, sembrano pochi, ma è fondamentale ricordarsi che nel lungo termine è l'interesse composto che vince, per questo poi ti consiglio di iniziare a investire immediatamente, anche tramite Bondora che è un ottimo sistema. A proposito di questo ti lascio qui sotto un link per entrare. Usandolo riceverai un bonus d'ingresso, oltre che poi anche i miei ringraziamenti perché anch'io riceverò un piccolo omaggio da parte di Bondora per averti invitato. Passiamo adesso a Rendimento Etico. Rendimento Etico non dà una revenue mensile né annuale poiché lavorano a progetto. Io ho prestato 865€ sette mesi fa, da quelli mi aspetto un rendimento lordo del 15% in 18 mesi, ossia mi aspetto 994,75€ fra 11 mesi. Passiamo adesso ai piani di accumulo. Sapete che il mio primo piano di accumulo è Conetica SGR. Incremento il mio piano di accumulo con 100€ al mese e sono partito da 2000€. In realtà poi a giugno ho aggiunto più di 100€ al mese, e se volete sapere di più andate a rivedere il vecchio video degli investimenti del mese scorso. Dunque attualmente la situazione è questa. Ho messo da parte in questo piano di accumulo capitale 12.889,93€, e attualmente il controvalore è di 13.445,26€. Ossia sto guadagnando 555,33€, che è circa il 4,31% del valore inserito nel fondo. Il secondo piano di accumulo che ho lo trovate su Itoro. L'andamento sul luglio, ahimè, è stato in negativo dell'1,15%. Purtroppo mi autoconfermo ogni mese che è un investimento veramente poco interessante, quello che sto facendo su Itoro, e che la piattaforma in generale offre poco e lavorano più di marketing che di altro. Ma nel frattempo, come vi ho già detto ai mesi scorsi, io continuo a tenere questo investimento. A novembre prossimo, ossia dopo 12 mesi dall'inizio dell'investimento, trarò le mie conclusioni e deciderò cosa farne. Passiamo ora a vedere in che cosa ho investito questo mese. Dai video avrete visto che a luglio ho fatto di tutto tra ne stare dietro a operazioni finanziarie o economiche. In realtà un po' me ne penso, soprattutto nell'ambito cripto, perché è stato un mese dove avrei voluto investire di più, ma ne parliamo dopo di questo. Non a caso c'è tutta una sezione fatta apposta dedicata esattamente all'ambito cripto. Questo mese ho dedicato le mie energie e il mio tempo a svuotare, pulire, buttare, vendere o regalare, spaccare i muri, ricostruire per l'appunto col cemento, tingere, eltrificare, costruire. Bene, io non ho fatto proprio una stima precisa, ma sono certo che per tutti questi vari lavori che ho fatto avrei potuto pagare molte, varie migliaia di euro a professionisti esterni che lo facessero al posto mio. Dunque ritengo che questo sia stato del tempo ben speso e soprattutto ben investito, perché mi ha permesso di capire anche come organizzare la mia casa e soprattutto come pensare la domotica. Dunque, dove investire prossimamente? In testo ho vari progetti interessanti che riguardano investire nel mattone, che riguardano le stampanti 3D, che riguardano il videocorso che lancerò fra non molto, ma in primo luogo la prima necessità è finire di mettere a posto questa casa, sposarmi e iniziare una nuova fase della vita che tecnicamente sarà un pochino più stabile. Ma per ora non è questo l'argomento principe. Il primo obiettivo di questo mese l'ho chiamato zero frizioni per YouTube. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che sto sempre più scegliendo YouTube non come luogo di svago o per creare qualche contenuto saltuario, ma sempre più come mezzo per fare l'imprenditore. Nella pratica, questo vuol dire che voglio mettermi nella condizione di scrivere un video, di accendere la videocamera, registrarlo e montarlo. Velocemente. E qualcuno si potrà domandare, non è esattamente la stessa cosa che succede ora? Eh, snì. Ora succede che inizio a scrivere il contenuto, devo impostare la videocamera, trovare la giusta posizione, accendere le luci dietro, quella che vedete, posizionare il microfono, fare i test dell'audio, registrare e poi montare. Come vedete, sono tutte possibili frizioni, sono tutti i momenti che rendono più complicato il percorso di creazione di un video. Poiché il mio obiettivo è incrementare, massimizzare la produzione di video, voglio anche poterlo fare con meno frizioni possibili. Oppure, come dice l'obiettivo, per l'appunto con zero frizioni. Oppure direbbero al nord con zero sbatti, va? Dunque, dopo esserci stabiliti, inizierò a strutturare questa stanza per le riprese e probabilmente anche qui dovrò eseguire qualche intervento. Per esempio, tingere il muro di un colore che non sia bianco, perché rende veramente poco. Oppure inserire dei pannelli fonoassorbenti, perché sicuramente sentite un pochino di eco nei miei video. Poi sistemare scenicamente tutte le varie componenti, per esempio prendere un monitor più ampio, smettere di usare questo piccolo 13 pollici che vedete. Oppure, come già vi dicevo prima, mettere delle luci fisse, che si accendono in automatico con la domotica, e che mi permettano con un semplice click di essere già pronto per registrare. Insomma, obiettivo zero frizioni YouTube is the way. Passiamo ora al mondo delle cripto. Sono passate le ultime due settimane per riaccendere un fuoco sotto a tutto al mondo delle criptovalute, delle cryptocurrency, delle cripto cose in generale. Molto semplicemente il Bitcoin ha guadagnato molto valore e si è riportato in zone particolarmente più interessanti per gli investitori. Non siamo come ad aprile su livelli di 60.000 dollari, ma siamo tornati su livelli di 45.000 dollari. Ricordiamoci che poco dopo la metà di luglio eravamo a 30.000 e lì era veramente la metà di 60.000. No, abbastanza semplice il conto. Quindi è stato un gran bel recupero, insomma, siamo a metà strada. Ed è un recupero che potrebbe rimettere in gioco alla grande i piani di plan B, di cui vi ho parlato in questo video che ti lascio, e che ti consiglio di vedere se sei indeciso se investire in Bitcoin o in criptoasset in generale in questo momento. Poi dal canto mio potevo anche dire Ah, io ve l'avevo detto! Ma in realtà credo che negli investimenti ognuno deve provare con tranquillità le proprie esperienze, proprio come ho fatto io quando un anno fa non ho investito massivamente in Bitcoin, cioè in realtà lo volevo fare, ma poi ho tergiversato, insomma, e ho perso un grandissimo treno. Ma dall'altra parte sono convinto che nulla è perso per sempre. Le regole del gioco sono tante e bisogna starci dentro. Sbagliare, imparare e fare meglio. Questa è la strada per migliorare. Proprio a conferma di quanto ti ho appena detto, io non ti consiglio di investire grandi somme tutte insieme, ma ti consiglio di seguire il metodo del Dollar Cost Averaging che a mio parere è uno dei migliori metodi per investire mantenendo comunque un profilo di rischio controllato. E ti lascio questo video per capire come investire con il metodo del Dollar Cost Averaging. Per iniziare invece a investire in criptovalute ti consiglio di partire da Crypto.com di cui ho fatto una guida veramente completa che ti lascio qui e poi anche di questo in descrizione ti lascio un link d'ingresso per iniziare con un bonus di 25 dollari. Per finire ti lascio il mio portafoglio di criptovalute, io in questo momento consiglio Decentraland, Flow, Polkadot, Cardano, Tezos, Binance, Filecoin, Solana, Ethereum e Matic. Grazie mille per aver visto questo video. Ti lascio qui sotto il link per entrare all'interno del canale Telegram che è un posto un pochino più intimo dove parlo più a fondo di tante cose che faccio e di come le sto pensando e di come le sto sviluppando. E ricordati come sempre di dirmi nei commenti che cosa ne pensi dei miei investimenti, dei tuoi investimenti e di che cosa mi consigli per il futuro. Se questo video ti è piaciuto, se ti è dato dei buoni consigli o banalmente se vuoi sostenere il mio progetto e il mio canale lascia un bel pollicione all'insù e iscriviti qui sotto all'interno del canale. Io come sempre ti ringrazio e ti auguro una buona continuazione e noi ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao! 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 Grazie a tutti.